Il governo che predica legge e ordine dovrebbe predicarla a tutti o non predicarla a nessuno. Rudolf Giuliani, che era legge e ordine, multava chi rompeva le vetrate in pubblico a New York, multava chi rompeva i vetri per la strada, ma poi ha fatto le operazioni contro i ladroni di Wall Street. Il film di Michael Douglas nasce da un'inchiesta della sua procura distrettuale. Noi abbiamo questa parodia di legge e ordine che se la prende con dei fenomeni del tutto trascurabili perché deve nascondere il fatto che sta salvando i grandi ladroni, che sono quelli che scavano buchi e fossati nelle casse dello Stato. Questa è la cosa vergognosa, non il provvedimento in sé.